Senza la donna e la sua libertà il mondo andrà sempre di male in peggio, ne è convinto Salvatore Mongiardo, autore del libro Mi dimetto da maschio, un titolo che fa senz'altro sorridere e suscita subito curiosità. Dimettersi da maschio non vuol dire che io voglio diventare gay, no, significa semplicemente che il maschio non ha più autorità morale per guidare il mondo, vuol dire che il mondo deve essere guidato realmente, non in maniera simbolica, cioè politicamente come potere decisionale dalle donne. Mongiardo, originario di Sant'Andrea Apostolo sullo Ionio, autore di altre opere come Dieci poesie, Viaggio a Gerusalemme, Cristo ritorna da Crotone, dopo essere stato nelle più importanti città italiane e all'estero per motivi di lavoro e di studio, torna da qualche anno in Calabria, convinto che qui si possano trovare i più grandi giacimenti di energie mentali e morali, vero tesoro dell'umanità. Un'umanità che per l'autore sta scivolando in un groviglio di problemi che solo la donna può risolvere, invitando quindi il genere maschile alle dimissioni. Le religioni, la politica non riescono più a governare il mondo perché sono deposito ormai di dominio totalmente maschile. Dio è maschio, Allah è maschio, Yahweh è maschio, Brahma è maschio, Maometto è maschio, il Papa è maschio e allora come andiamo avanti? Il maschio ha quindi esaurito tutte le sue possibilità e la donna rappresenta l'unica via d'uscita per una decisiva inversione di tendenza, una soluzione che Mongiardo ha presentato alla sede dell'Associazione Vincenziano di Davoli, suscitando la curiosità dei presenti e invitando gli stessi ad una riflessione profonda anche da un punto di vista religioso, dopo aver narrato situazioni e personaggi reali. Dopo l'analisi storica, filosofica della religione, dell'antropologia delle ultime migliaia di anni, è l'era delle donne che questo libro saluta. Rossella Galati per la CNews24